E' destinata ad ospitare anziani autosufficienti la nuova casa famiglia della cooperativa Agorà che si trova ad Arezzo e che si chiama Casa Ottavia. Una risposta al sempre crescente bisogno di servizi da parte delle famiglie, otto le persone che vi risiederanno. Sì, dobbiamo dire che l'inizio è stato un inizio un po' in sordina, poi abbiamo visto che invece che la cosa funziona e funziona molto bene. Sicuramente perché ci sono degli operatori straordinari, devo dire che senza la capacità di relazionarsi e di gestire le strutture in modo serio non si va da nessuna parte. Però questa gestione ci ha dato dei buoni risultati, sono case aperte come ho detto prima, aperte ai parenti, aperte sempre, perché volevo dire giusto anche che i parenti sappiano e ci controllino anche per capire come viene gestita la casa e come vengono trattati i nostri ospiti. La soddisfazione è che le altre sono tutte piene e abbiamo ritenuto opportuno ampliare l'offerta in questo settore. Grazie.